Gli Stati Uniti danno la caccia al re dei hacker. Yevgeny Bokachov, conosciuto come Slavic, è un cittadino russo sospettato di essere l'artefice di numerevoli crimini informatici che hanno colpito imprese in tutto il mondo. Avrebbe attaccato più di un milione di computer per rubare dati personali e finanziari. Il Dipartimento di Giustizia statunitense lo accusa di cospirazione, frode bancaria, informatica e riciclaggio. Game over Zeus è il più sofisticato e dannoso software che abbiamo mai incontrato. Spesso prende di mire i computer di piccole e medie aziende. Il game over Zeus intercetta le password e altre informazioni private che possono essere utilizzate per effettuare i bonifici. In pratica trasferisce importi dai conti bancari delle vittime ai conti bancari esteri controllati dai criminali. Le autorità russe stanno collaborando con quelle statunitensi e hanno reso noto che Bokachov predilige vivere su una barca nel Mar Nero. I provider di servizi internet contatteranno i clienti che sono stati colpiti. Game over Zeus non tornerà operativo nelle prossime due settimane e in rete sono disponibili le istruzioni su come proteggere il proprio computer.